Tra i morsetti contrassegnati con tamper e com c'è l'uscita relativa al dispositivo di antiscasso Se colleghiamo ad esso uno strumento ci accorgiamo che l'apertura o la chiusura della sirena apre o chiude i relativi piedini Quindi questa uscita può andare direttamente alla centrale d'allarme e la comanda in caso di scasso